La moda fashion è stato sempre un elemento molto importante all'interno delle Wings fin dal primissimo episodio e ci sembrava importante ora con 18 anni voler enfatizzare proprio questo elemento del fashion con una partnership importante con la Ferrari Fashion Scuola di Milano e realizzare appunto dei capi studiati apposta per poter festeggiare i 18 anni, la maggiorità dei nostri protagonisti. Come sono stati studiati gli abiti delle protagoniste? Gli abiti delle protagoniste sono stati studiati in base alle caratteristiche di un'una, ai colori che hanno caratterizzato da sempre l'una di loro, che sono ben diverse l'una dall'altra. Quindi c'è stata un'attenzione a quello che è il carattere, la personalità e l'elemento e il potere caratterizzante di ciascuna di queste fate, nonché un riferimento anche ai colori basici che caratterizzano i nostri fatti. Sono tanti festeggiamenti per queste fatine che hanno conquistato il mondo, qual è il segreto di questo successo? Il segreto del successo delle Wings credo risieda in questo forte potere identificativo che hanno suscitato le spettatrici fin dalla primissima serie. Ognuno di loro è molto diversa come personalità, come potere, come modo di fare e quindi è molto facile per chi guarda questa serie potersi identificare e voler essere uno di loro. Credo che questo sia l'elemento più forte di tutta la serie. Cosa penserebbero le Wings di tutto quello che sta accadendo nel mondo? Le Wings non sono sicuramente contente di come sta andando il mondo in questi ultimi anni. A partire dal global warming, che è sicuramente uno dei problemi importanti, è l'ecologia rispetto al pianeta. È stato sempre uno dei temi principali delle storie delle Wings. Poi ovviamente non parliamo delle epidemie o del peggio ancora della guerra, che sono veramente tutti mostri della nostra società e che le Wings sicuramente avrebbero voluto combattere. Grazie. Grazie.